che ovviamente è quello che personalmente ho più a cuore è un investimento in comunicazione iniziato appunto 30 anni fa e che in maniera costante a scapito ovviamente di riduzione di costi di tutti quei trend che magari era più facile seguire invece è stata perseguita per anni e che è nostra intenzione continuare a fare. Quindi quello che vedete è il primo modo in cui Melinda si è presentata al pubblico 30 anni fa e con piacere vi faccio vedere anche lo spot. Mia madre dice sempre fammi andare con Melinda, fammi andare con Melinda, fammi andare con Melinda, fammi andare con Melinda, più che Melinda, Melinda. Questo è il modo in cui 30 anni fa Melinda si è presentata al grande pubblico, ovviamente da lì poi i tempi sapete vi cambiano, oggi in maniera un po' più rapida ma anche allora si andava avanti. Nel 1993 quando il volino è già diventato quello blu siamo passati ad altre pubblicità come questa. Ma cosa c'è? Ma cosa c'è? Ma non è una Melinda! E qui nominava prima il nostro direttore la voglia di essere sempre diversi, di differenziarci, quindi già ai tempi il messaggio era quello non siamo una mela, siamo Melinda.